Questo è l'eSensor Tool, dispositivo che misura la pressione di compensazione espressa in etopascal. Innestiamo l'Otovent e vediamo come funziona. Una volta acceso attendiamo qualche secondo e dopo una schermata d'avvio iniziamo la dimostrazione. Il valore della pressione viene visualizzato accanto ad una barretta in tre colori diversi. Con un riquadro bianco sullo sfondo blu viene indicata la pressione fino a 20 etopascal, con una verde la pressione fino a 70 e in rosso la pressione oltre i 70 etopascal con un avviso sonoro. Nella pipa a fianco al sensore è possibile fare sfiatare il dispositivo per completare gli esercizi a secco. Il dispositivo ha una batteria interna ricaricabile compresa micro usb. Il dispositivo è totalmente autonomo e non dipende pertanto dalle app di un telefonino. È anche in grado di trasmettere i dati via bluetooth a delle app serial bluetooth che sono disponibili gratuitamente in rete. Ecco qui la dimostrazione. Continuiamo l'esercizio. Vedete come i dati vengono trasmessi anche sul telefonino. Ringrazio per l'attenzione.